Striscia di Gaza, si riaprono colloqui tra Israele e Stati Uniti per discutere dell'offensiva a Rafah, scontri al confine con il Libano. Visita di tre giorni in Brasile per il presidente francese Emmanuel Macron, con Lula annuncia un miliardo di euro per proteggere la foresta pluviale. In arrivo la laurea europea, il progetto della Commissione per offrire programmi di studio comuni a tutta l'Unione. Anno nero per la Germania, rivista a ribasso la crescita del PIL per il 2024. La più grande economia d'Europa crescerà solo dello 0,1%. Non si fermano i raid di Israele sulla Striscia di Gaza e gli scontri tra l'esercito israeliano e i combattenti palestinesi di Hamas. Sono 66 i morti durante la notte tra il 27 e il 28 marzo nelle enclave palestinese. Scontri anche tra Israele e Libano. Una serie di attacchi aerei israeliani nel sud del Libano ha ucciso 16 persone, mentre una raffica di razzi è stata lanciata da Hezbollah su Israele. Sul fronte diplomatico, l'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha concordato di riprogrammare l'incontro della sua delegazione con gli Stati Uniti, per discutere dell'offensiva su Rafa. A Gaza, però, la situazione umanitaria è sempre peggio. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia sull'incommente carestia nella striscia di Gaza. Secondo le Nazioni Unite, nel nord di Gaza, un bambino su tre sotto i due anni soffre di malnutizione acuta, con numeri in crescita mese dopo mese. Diversi paesi europei si fanno scudo dopo che l'attentato a Mosca del 22 marzo ha ridestato la preoccupazione per la minaccia del terrorismo islamista. La Francia, che a fine luglio ospiterà le Olimpiadi, ha annunciato misure di sicurezza più severe, dispiegando 3.000 soldati e innalzando al massimo il livello di allerta. Dal 2017 sono stati sventati 45 attacchi terroristici, due dall'inizio del 2024. I francesi devono ora affrontare un aumento dei controlli e delle perquisizioni nei luoghi affollati, nei luoghi di culto e nelle scuole. Anche l'Italia ha alzato l'allerta a terrorismo, intensificando le misure di sicurezza in coincidenza con la settimana di Pasqua. L'attenzione è rivolta soprattutto a individui sospetti nei pressi di luoghi affollati da italiani e turisti e di eventi legati alle festività pasquali. Abbiamo rafforzato misure di protezione, misure di vigilanza, di prevenzione che già avevamo, io ritengo, già molto alte dal 7 ottobre, allorquanto gli scenari internazionali si sono in qualche modo complicati. L'Austria, la Germania, il Belgio e la Spagna mantengono il livello di allerta a terrorismo precedente già alto. C'è preoccupazione anche in Germania, dove a giugno inizieranno i campionati europei di calcio. La Spagna mantiene un livello 4 su 5 di minaccia terroristica, stabilito nel giugno 2015. 4 persone sono state uccise e 5 ferite nel nord dell'Illinois, negli Stati Uniti, dove un uomo di 22 anni, armato di coltello, ha aggredito i passanti senza un'apparente ragione. Secondo il capo della polizia di Rockford, a nord-ovest di Chicago, il sospetto è in custodia ed è stato interrogato mercoledì 27 marzo dopo il gesto. Al momento non è chiaro il movente su cosa abbia spinto l'individuo a commettere il crimine. Mercoledì il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo brasiliano Luis Ignacio Lula da Silva hanno varato un sottomarino a propulsione diesel costruito in Brasile con tecnologia francese. Si tratta del terzo sottomarino consegnato dalla Francia al paese sudamericano nell'ambito del programma ProSub lanciato nel 2008. A peine 16 anni da questo sito d'Itaguai non era solo forze e marécage. C'è ora l'un dei campi di construzione di sui marini parmi le più moderni del mondo e il solo nel l'emisphere sud. Questa visione geopolitica che è la nostra, quella di essere delle grandi puissazioni Macron è al suo secondo giorno su tre di visita in Brasile ed è il primo presidente francese a visitare il paese in 11 anni dopo un recente miglioramento delle relazioni tra Parigi e Brasilia. I due paesi hanno anche annunciato un piano di investimenti da un miliardo di euro per l'Amazzonia che coinvolgerà anche la vicina Guiana francese. Il denaro sarà distribuito nei prossimi quattro anni per proteggere la foresta pluviale. Gli studenti europei potrebbero presto conseguire una speciale laurea europea secondo il nuovo progetto presentato da Bruxelles. Le università dei 27 paesi dell'Unione si uniranno per offrire programmi di laurea comuni riconosciuti in tutto il blocco. La Commissione europea afferma che il progetto ha un enorme potenziale. Tuttavia, gli studenti dovrebbero studiare in più di un paese dell'Unione per ottenere la laurea. Ma senza finanziamenti aggiuntivi non è chiaro come la Commissione garantirà che il programma sia accessibile agli studenti di ogni estrazione sociale e non diventi un progetto elitario. La Commissione afferma che la proposta sarà complementare a Erasmus+, tra i programmi più conosciuti dell'Unione che dispone di un ingente volume di investimenti pari a 26,2 miliardi di euro in sei anni. Per l'Erasmus, gli studenti possono ricevere fino a 390 euro in borse di studio mensili. Ma i piani potrebbero incontrare diversi ostacoli. Non è chiaro come i titoli di studio potrebbero essere riconosciuti dato che attualmente non esiste un riconoscimento automatico dei diplomi accademici in tutta l'Unione. Alcuni stati membri temono inoltre che Bruxelles possa invadere le loro competenze nazionali. La Camera bassa del Parlamento Thailandese ha adottato a stragrande maggioranza un disegno di legge sui matrimoni tra persone dello stesso sesso. In caso di via libera del Senato, la Thailandia diventerà il primo paese nel sud-est asiatico a legalizzare la parità di diritti per le coppie di qualsiasi sesso. Il disegno di legge cambia le parole uomo e donna e marito e moglie nel codice civile e commerciale che diventano individui e partner matrimoniali. La proposta apre l'accesso a tutti i diritti legali, finanziari e medici per le coppie LGBT. Andare a dormire a Bruxelles e svegliarsi il giorno dopo a Praga il tutto mentre ci si prende cura del pianeta. Questo è il nuovo servizio The Good Night Train il treno della buonanotte della start-up European Sleeper che offre ai viaggiatori accoglienti cabine letto da cui godersi il viaggio nel cuore dell'Europa. Il treno passa per Amsterdam e Berlino e il viaggio dura circa 11 ore. Sospiro di sollievo per la nazionale di calcio ucraina che si qualifica ai prossimi europei in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Battuta e rimonta l'Islanda 2-1 ai play-off disputati nella serata di martedì 26 marzo. L'Ucraina completa così il gruppo E con Belgio, Slovacchia e Romania. L'esordio degli undici di Rebrov lunedì 17 giugno alle ore 15 contro la Romania all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Un'esplosione di gioia sfrenata a Tbilisi per la qualificazione della Georgia all'Euro 2024. Per la prima volta nella sua storia post-sovietica il paese parteciperà agli europei di calcio. Il risultato è stato raggiunto dopo la vittoria con la Grecia con gli ellenici sconfitti ai rigori per 4-2. Il turneo interessa in Germania si aprirà a metà giugno e la Georgia dovrà affrontare Portogallo, Repubblica Ceca e Turchia in un difficile girone. Il primo appuntamento sarà contro la Turchia per il 18 giugno a Dortmund.